Ben ritrovati a Calcio dai Numeri, ben ritrovato caro Fabrizio Biasin, come stai? Ciao Matteo, ciao a tutti, tutto bene, grazie, tutto bene? Tutto bene, allora, ineditiamo una giornata interessante di campionato, l'Inter è tornata a vincere, il 1-2-0 comunque convincente con il Lecce, sconfitta per il Milan, sconfitta appunto in terra toscana Firenze, Juventus ha perso contro la Roma e incredibilmente ha perso anche il Napoli contro la Lazio, un pareggio invece per l'Atalanta 0-0 con l'Udinese. Parleremo di queste squadre partendo appunto dall'Inter perché sarà l'Inter ad aprire le danze domani sera contro lo Spezia, una trasferta particolare e proprio per questo ti faccio vedere già qualche informazione, la relazione dovegas.news scherza sul titolo per non calare a picco, lo Spezia non vince una partita da ben 8 gare consecutive, ha ottenuto 5 sconfitte e 3 pareggi, in queste 5 sconfitte ha segnato solo nel 5-2 di Coppa Italia contro l'Atalanta, si trova per ora a 3 punti sul Verona, 18esima in classifica, squadra con cui ha disputato appunto l'ultima partita di campionato terminata 0-0. Quello Spezia ha 4 vittorie in campionato, dall'altra parte l'Inter invece le ultime 5 trasferta ha sempre faticato, dall'inizio del 2023 c'è stata una sola partita però in cui Lautaro Martínez hanno segnato, ti la ricorderai benissimo, Inter-Napoli del 4 gennaio, nelle partite in cui l'Inter ha trovato la via del gol, specificiamolo. 5 partite finora tra Spezia e Inter, 4 vittorie Inter e un pareggio, l'unica non vittoria è stata proprio le mura dello Spezia. Che gara ti aspetti? Allora, partiamo da un presupposto, cioè l'Inter quest'anno in trasferta fa fatica. perché al di là degli avversari l'Inter è una squadra che prende un sacco di gol in trasferta, oltre 20, mi sembra 22, in casa in realtà invece l'Inter è un fortino, ha proprio questa differenza tra resa in casa e resa in trasferta. Quindi anche la trasferta con lo Spezia è una trasferta, secondo me, sulla carta non così semplice. Per mille motivi, uno legato al fatto che è un campo molto particolare, tendenzialmente fastidioso per il gioco secondo me di Simone Inzaghi, la testa può essere la partita di martedì di Champions League che è ovviamente la partita più importante fino a questo momento della stagione, quindi insomma, per me non è una partita così scontata. Detto che lo Spezia secondo me non ha fatto una gran scelta nel cambiare il tecnico. Io non ho capito perché si è scelto di lasciare partire, di lasciare andare, di esonerare Gotti, che per me sta facendo il suo onesto lavoro. Però ripeto, per me non è una partita così scontata, con ovviamente una strafavorita che è l'Inter di Simone Inzaghi. Allora, ti volevo far vedere anche un po' di dati più specifici per quanto riguarda appunto la gara tra lo Spezia e l'Inter, perché dobbiamo vedere qualche evento legato la partita. La vittoria dell'Inter, 66% di possibilità, pareggio finale 20%. 66% ti dico che secondo me è un dato un po' basso, vedendo soprattutto i precedenti. Che però io condivido perché è legato un po' anche all'esperienza di questa stagione, cioè l'Inter purtroppo quest'anno in trasferta ha avuto tanti problemi, sia quando ha affrontato avversari di un certo livello, sia quando è andata in provincia. E quindi ci sta che non ci sia tutta questa certezza, perché purtroppo, ribadisco, l'Inter ha avuto molti alti e bassi in campo nazionale, cioè in campionato. E quindi insomma deve trovare quella continuità che fino adesso non ha avuto, ma io comprendo questo dato. Quindi c'è una buona probabilità che l'Inter vinca, ma nessun tipo di certezza. Infatti probabilmente proprio per questa esperienza, tra virgolette, questo trend che ha avuto l'Inter, soprattutto nelle varie trasferte, che porta insomma gli algoritmi, gli statisti, a dare questa percentuale. Vediamo qualche altro dato. L'ultimo per quanto riguarda appunto la squadra dell'Azzurra, due o più gol dell'Inter, 63%. Questo è un buon dato, perché evidentemente c'è fiducia per quanto riguarda gli attaccanti, soprattutto dell'Azzurri. La vittoria dell'Inter senza subire gol è 41%. Se per me invece questo è un dato molto alto. Se quello di prima era basso, questo invece è molto alto. Questo fa proprio il paio con tutto quello che stavamo dicendo, no? Cioè una trasferta dell'Inter senza subire gol quest'anno è una rarità. Mentre in casa è difficilissimo fare gol all'Inter, in trasferta più o meno ce l'hanno fatta tutti. Quindi ci sta che ci sia questo 41%. Così come sono abbastanza convinto che l'Inter possa fare diversi gol, perché in questo momento è vero che non ha mai vinto di goleada, però io credo che in questo momento si stia un po' scaldando per la fase cruciale della stagione e la partita di venerdì può essere, anzi deve essere assolutamente un test probante per, ripeto, quella di martedì prossimo che invece è la partita. Come la stai vivendo questa attesa con un po' di... Ma secondo te i giocatori come la vivono? Ma i giocatori non ne ho la minima idea. Io ti posso dire quello che sento io. Cioè è un po' come quando c'è la maturità e i tuoi compagni di classe l'hanno già fatta. Nel caso specifico ieri hanno giocato delle squadre, oggi altre, questo e quella. Quindi insomma tu devi aspettare, quindi l'attesa è abbastanza fastidiosa nel mio caso. Vi invito come sempre ovviamente a fare un giro anche sul sito di leovegas.news per avere maggiori informazioni, poter scoprire qualcosina in più. Proprio tra l'altro su due squadre con cui leovegas.news ha una partnership, l'Inter e l'Atalanta. Quindi fate un giro sul loro sito. Abbiamo parlato dell'Inter, dobbiamo parlare però di un'altra squadra ora che ha fatto un passo falso, forse inaspettatamente anche, in casa con la Lazio. È arrivata la prima scopetta stagionale interna in campionato per appunto il Napoli di Spalletti. Fuga per la vittoria, una scorsa partita con l'Udinese. L'Atalanta ha pareggiato 0-0 per la prima volta in questo campionato. Una gara complicata da tenere sott'occhio. Nell'intero giro di andata l'Atalanta ha segnato 37 reti, dopo 6 giornate ne aveva segnati 10, mentre nelle prime 6 giornate del giro di ritorno ne ha già segnati la metà. Quindi comunque l'attacco ha dimostrato di essere buono, almeno per quanto riguarda l'anno nuovo. La sconfitta contro la Lazio ha interrotto una striscia positiva di 8 vittorie consecutive per il Napoli. In queste 8 vittorie il Napoli ha segnato la bellezza di 21 reti. Guarda che dato che ti do, Mario Rui, che salterà la sfida per squalifica, non ha giocato in nessuna delle tre sconfitte stagionali del Napoli. Liverpool, Inter e Lazio. Interessante. Che partita ti aspetti per quanto riguarda questa gara qua? Soprattutto ti aspettavi la sconfitta del Napoli? Assolutamente no. Intanto vorrei partire invece, caro il mio Matteo, facendo una cosa che non va mai fatta, lodandosi, perché chi si loda si imbroda, ma noi, io ho detto, tu non te lo ricordi, ma noi settimana scorsa lo avevamo detto. Ah sì? Perché, certo, io me lo ricordo perfettamente, si diceva, attenzione perché la Lazio arriva da una brutta partita con la Sampdoria, il Napoli e il Super Napoli, ma io dicevo, attenzione perché la partita contro, tra Napoli e Lazio, è una partita dove secondo me la Lazio potrà fare un partitone. Devo dire, forse è l'unica volta nel nuovo millennio che c'è un peccato e quindi mi va di ricordarmi. Ok, fatto bene, fatto bene. Così come ti dico che in questo momento l'Atalanta, per me il Napoli non ha alcun tipo di problema nella sua strada verso lo Scudetto, ma proprio zero di problemi. L'Atalanta arriva da un momento non buono, perché la prestazione è anche decente, ma non arriva il risultato, e io ti dico che invece l'Atalanta può dare molto fastidio al Napoli. Ok, ti seguo a ruota su questa gara, non so qual è mai, ma mi hai convinto, sei stato un ottimo venditore. Guarda, ne prendo una a millennio, quindi l'ho già presa, questa è la sbaglio. Ok, particolare questa curiosità appunto di Mario Rui, giocatore che non c'è stato nelle sconfitte, simpatica, una statistica particolare. Queste le probabilità, 58% di vedere il Napoli uscire con i tre punti, 23% il pareggio, 19% l'Atalanta, quindi è molto più probabile che il Napoli vinca piuttosto che non vinca, quindi che ci sia un pareggio o una sconfitta. Ma secondo te sono numeri che proprio non hanno preso in considerazione la recente sconfitta con la Lazio, no? Beh, allora, visto l'andamento di quest'anno del Napoli, che anche quando ha avuto il mezzo in ciampo poi si è subito rialzato, ci sta assolutamente, ma anche perché, ripeto, secondo me è stato un incidente di percorso, non intravedo crepe in questa squadra. Però non sto guardando tanto al Napoli e al fatto che comunque anche il Napoli dovrà giocare la sua partita in Europa, più o meno anche lì quello che doveva fare il Napoli lo ha fatto, quindi insomma c'è tanta serenità. ma io guardo l'Atalanta, perché l'Atalanta, ripeto, arriva da un periodo non bellissimo dal punto di vista dei risultati, più o meno dal punto di vista delle prestazioni partita col Milan a parte dove non ha giocato. E quindi, ripeto, secondo me l'Atalanta è capace di fare la gran bella prestazione, quindi i numeri, secondo me, hanno un senso. Alzerei un filo le possibilità dell'Atalanta. Ok, quindi ti aspetti un dato un pochino più alto per quanto riguarda... Devi fare una cosa, devi ricordartelo se c'è Zecco settimana prossima, fare la cleppettina, dimenticartelo se non ci prendi. Ok, va benissimo. L'Atalanta segna 1 o 0 gol, 73%. È un dato alto, eh? È perché il Napoli ha la miglior difesa e si fa faticare tantissimo a far gol al Napoli. Non si guarda quindi la squadra di Gasperini come ha sempre giocato, una squadra comunque spumeggiante, si guarda di più la difesa del Napoli. Io ho questa sensazione che in realtà non sarà così semplice per il Napoli di Spalletti, anche solo e soltanto perché quel vantaggio enorme che ha acquisito in campionato le consente, secondo me, di entrare in campo, se vuole, anche con la mente all'Europa. Quindi, ripeto... Ci sarà anche l'impegno poi, eh? L'impegno, me l'immagino. La vittoria così certa del Napoli un po' meno. Ricordiamo che ci sarà anche un impegno importante in Europa per il Napoli. Qual pensiero c'è o non c'è, secondo te? Ma, ripeto, il Napoli anche in quel caso ha già fatto una bella strada perché, insomma, la vittoria in casa dei tuoi avversari a Francoforte, con quella dimostrazione di grandezza, perché il Napoli ha giocato una super partita, mi fa pensare che, non dico scenderà in campo per gestire, che non è proprio nell'attitudine della squadra di Spalletti, ma che abbia nove possibilità su dieci di non avere nessun tipo di problema, forse anche di più. Quindi, in realtà, il ragionamento sarà più avanti, addirittura già per i quarti. Però, ovviamente, sempre una partita di Champions, si può mai dire, eccetera, eccetera, eccetera. Risultato finale? Puoi dirlo? Di Napoli e Atalanta? Ti vuoi sbilanciare? Allora, guarda, non so perché, vedi un 8-7. 8-7. Occhio, perché se finisce poi 8-7, se finisce 8-7. Ma se non è finita una partita in Serie A, 8-7. Non penso, devo andare in una gara, ma non penso. È arrivato il momento della pubblicità. Ebbè, allora, due minuti nella giornata, vi abbiamo aggraziato poco. Perfetto, ad off. Eccoci, dobbiamo parlare con un attaccante dal 19 febbraio, una vittoria in trasferta contro lo Spezia, Ken. Vlaovic, se non sbaglio, non segna addirittura dalla gara con la Salernitana per quanto riguarda il campionato, ha la ricerca della Champions. Quando ha perso, Iversus ha sempre segnato tra Napoli e Monza. Però sono state le altre sfide dove non ha trovato la vittoria e è riuscita comunque a trovare la rete. L'ultima vittoria della Sampdoria, e qua ci spostiamo sulla squadra Ligure, è datata 4 gennaio 2023. Da allora sei sconfitte, tre pareggi, due le vittorie complessive della Sampdoria in tutto il campionato. Esorde poi per Stankovic contro la Juventus, nella sfida di andata, ti ricorderai, c'era Giampaolo, finì 0-0, io ero presente allo stadio e non fu una partita entusiasmante. Soprattutto dal lato Juventus, dico la verità. Sì, in questo caso specifico, in realtà la Juventus, che è vero, arriva da una sconfitta, però secondo me ha migliorato le sue prestazioni, anche in maniera sensibile. Infatti io non sono d'accordo con quelli che dicono adesso la Juventus fa fatica perché la sentenza almeno 15 può incidere, bla bla bla. In realtà credo di aver visto un miglioramento nelle prestazioni della Juve, che in questo momento sta giocando un buon calcio. Magari all'Olimpico con la Roma non proprio bellissimo, ma non sta giocando secondo me male. e quindi io in questo caso specifico vedo una chiara favorita, anche perché di fronte a una squadra molto generosa, perché la squadra di Stankovic è una squadra generosa, ma un poco di più. È una squadra che poi a livello di contenuti, soprattutto fatica a concludere dalla tre quarti in su. E quindi insomma, questa mi sembra una partita abbastanza segnata. Abbastanza segnata. Allora vediamo qualche dato più nello specifico riguardanti gli eventi di questa gara. Vittoria di Juventus al 72%, quindi rivedendo anche quelle di prima, di dati, andiamo a vedere che appunto è la più probabile la vittoria della Juve contro la Samp, della vittoria dell'Inter contro la Spezia, ma anche per diversi punti percentuali. Tre o più gol della Juventus, 36%. Juventus che non ci ha abituato a delle gole ade, però gli attaccanti devono iniziare a segnare in campionato. E poi è vero di Saraken. Non ci ha fatto vedere tantissimi gol in generale, nel derby di recente ne abbiamo visti parecchi. Devo dire che sono abbastanza d'accordo su questi due numeri, su questi due dati. Credo anche che Vlaovic possa fare la sua bella partita. E quindi in realtà io sono abbastanza d'accordo con questa grafica. Direi che la Juventus può serenamente vincere la sua partita e direi anche che può fare parecchi gol. E quindi per me c'è spazio per evitare il cortomuso. Che idea ti sei fatto della Samp? Perché comunque vediamo questi dati. Vittorio Juventus, il 72% vuol dire che comunque la Samp ha poche speranze. Riesce a salvarsi secondo te Fabrizio? No, nel senso che si può fare tanta retorica, parlare di matematica, parlare di possibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sembra che insieme alla Cremonese in questo momento abbia poche speranze che non sono troppo dettate dalle capacità di allenatore e squadra. Cioè per me sta facendo il suo e la squadra, i giocatori si stanno anche impegnando. Qui c'è un problema di costruzione della rosa, c'è un problema di approccio alla stagione e soprattutto c'è un problema fuori dal campo, legato alla proprietà. E la mancanza di certezze ha portato a imbastire una stagione che è troppo piena di limiti e problemi. Quindi io sinceramente, dovrei dire no, bisogna vedere, non si sa mai l'esperienza della Salernitana dell'anno scorso, eccetera, eccetera. Francamente faccio fatica in questo momento a vedere una Samp che riesce a salvarsi. Se ne ha solo una squadra a 60%, 1-0, cartellini per la Juventus, questo è un dato un po' simpatico vedendo l'espulsione della settimana scorsa di Ken, 37%. Non è una squadra che ci ha abituato a collezionare tanti gialli, anche se questo è comunque un dato. 1-0, perché se sono di più è l'altro dato. Più che guardare alle squadre, mi piacerebbe capire chi l'arbitra questa partita, perché ci sono arbitri più cattivi, arbitri meno cattivi. Le statistiche guardano anche quello, vedrai. Secondo me è quello che ha un po' la differenza. Io eviterei di ragionare sui cartellini. Sul segna solo una squadra, tu sei stato molto carino nei confronti della Samp, in teoria questo cartello dice segna solo la Juventus. Sì, diciamo che appunto ha una doppia valenza, però è ovvio che tutto ti porta a pensare che sia in realtà più dovuto alla Juventus che alla Sampdoria. Insomma, vediamo che partita sarà, non si dà però mai nulla per vinto, per sconfitto. Assolutamente no, abbiamo visto anche di recente una squadra come la Cremonese riuscire a battere la Roma, le distanze non sono così ampie, però più o meno ci siamo. Più o meno ci siamo. Allora, dobbiamo chiudere con l'ultima partita, non si giocherà nel weekend per ovvi motivi, perché il Milan ha appunto avuto l'impegno internazionale. Il Milan che arriva, per quanto riguarda il campionato, non per quanto riguarda la Champions League, arriva dalla sconfitta rimediata con la Fiorentina. 2-1, una Fiorentina che ha vinto contro una squadra priva di Leao. Stefano Pioli si posiziona al secondo posto dell'allenatore più vincente negli ultimi tre anni di Serie A. 212 punti in 101 partite. Negli altri due sono andati a indagare, ne hanno forniti appunto le relazioni di Vegas.news queste informazioni, Spalletti e Conte. Nei 1199 minuti, i comprensivi giocati da Charles de Cattelar con il Milan, il giocatore è riuscito a realizzare solamente un assist ad agosto nella vittoria contro Bologna. Dall'approdo di Paolo Sosa sulla panchina salernitana, Occio ha giocato due o tre partite in cui ha ottenuto quattro punti, mantenendo in entrambi le occasioni la porta inviolata. Quindi occhio anche alla salernitana. Nelle ultime cinque partite, il Milan ha segnato più di una rete e solamente un'occasione. 2-0 con l'Atalanta. In tutte le altre gare hanno dato la singolare rete segnata, ci ricordiamo appunto del cortomuso. Da inizio della Serie A, Raffa Leao è il calciatore che ha colpito più pali e traverse. In casa contro la Serie A, nel Milan non ha mai perso nella sua storia. Quindi insomma, questo è più o meno il bilancio. Tra Leao che becca i pali, poi Pioli che è comunque un'ottima media e De Cattelar che non riesce a trovare gol e ha solamente colezionato un assist. Faccio un po' di simpaticone per togliere un po' il sorriso, per mettere un po' un sorriso ai milanisti, ha comunque fatto più assist di Pogba e Locatelli. Dai, smerziamo un po' così. L'ho visto su internet. Ci sta. Che gara ti aspetti? Tra due squadre che sembra una sfida scontata, ma secondo me, occhio, non lo è. Sai, poi una è riduce dall'impegno in Europa. Si gioca di lunedì. Insomma, bisogna sempre comunque stare attenti. Anche perché a Salernitana, giustamente, si gioca le sue chance e salvezza. Per cui, attenzione, aggiungo io un dato. Il Milan con Leao è una squadra da 2,2 punti di partita. Senza Leao è una squadra da, mi sembra, 0,9. Perché ha saltato cinque partite e il Milan ha fatto quattro sconfitte e un pareggio. Quindi, insomma, sicuramente con Leao è una squadra superiore. Sono molto curioso, ma questa è una cosa che purtroppo ancora non so e non sappiamo, di vedere se lunedì è la partita di Ibrahimovic. Perché potrebbe essere anche la partita di Ibrahimovic. Quindi sono curioso di vedere se Pioli sceglie di schierarlo, magari addirittura dall'inizio. Ovviamente, in questo caso, c'è una squadra che è nettamente favorita. È una squadra che ha avuto due clamorosi alti e bassi. Cioè, ha giocato una partita stratosferica contro l'Atalanta. Stiamo parlando di campionato, ovviamente. È una partita parecchio insufficiente contro la Fiorentina. Mi interessa capire dove siamo in questo momento. Però, ripeto, questa è una partita che ha una chiarissima favorita. Anche perché il campionato comunque poi si rivela importante, vedendo anche la situazione Champions per quanto riguarda le squadre. Sono tutte un po' lì. Ci sono le romane. C'è la Juventus che comunque ha sempre l'inconita dei punti. Allora, ti ho spoilerato l'anteprima delle prossime grafiche. Eccola qua. Torno indietro. Milan, pareggio e Salernitana. 78% di vedere i rossoneri vincere. È un dato altissimo. Altissimo. Soprattutto perché hai visto anche poco fa la percentuale della Juventus, che è più bassa rispetto a quella del Milan. 17% di pareggio, 8% della Salernitana. E qui, secondo me, il fatto che comunque sia il Milan effettivamente per questioni di classifica non si può permettere nessun tipo di inciampo. In realtà neanche la Juventus. Anche perché dobbiamo capire cosa succede con i famosi 15 punti. Però in questo caso, insomma, il Milan ha sempre dimostrato comunque di riuscire a venire fuori dai momenti più complicati. Se arriva da una sconfitta in campionato, poi quella dopo difficilmente gioca male. Quindi ci sta questo numero. Andiamo avanti con le grafiche, perché ci sono altri due dati, altri due eventi, da farti vedere con quanto riguarda i dati di questa gara. Segna una sola squadra, 58%. Anche qui un po' il discorso è simile a quello che hai fatto prima, molto dettato da una singola squadra, ovvero il Milan in questo caso. Vengono segnate al massimo due gol, 48%. E questo è un po' basso, però. La Salernitana, se non ricordo male, arriva da due clean sheet, che sono anche i primi due di fila di questa squadra in questa stagione. Quindi tendenzialmente ha trovato una sorta di equilibrio in fase difensiva. Dopo i disastri recenti, diciamo che con Nicola, che adesso non c'è più, insomma la Salernitana ha preso anche tanti gol, mi ricordo la scopola contro l'Atalanta, eccetera, eccetera. Ecco, arriva da due clean sheet, credo che sia più un caso che una capacità. Quindi per me la possibilità che ci siano tanti gol, invece a San Siro è abbastanza concreta. Vediamo l'ultimo, ed è un po' particolare, preparati Fabrizio. Vai. Ah, questa è una bella grafica. Che ne pensi? Una bella grafica. Ragazzi, qui è come giocare il ritardatario all'otto. Cioè, prima o poi esce. Però è vero, prima o poi deve segnare questo ragazzo. Prima o poi esce. Prima o poi esce. Prima o poi esce. Il campionato fino adesso ha quel singolo assist di inizio stagione. Fino adesso è stato parecchio timido, lo abbiamo visto poco. Prima o poi esce. Poi, ripeto, a me sembra ancora un filo timido, però diciamo che se uno vuole scommettere ancora su questo giocatore, sul fatto che potrebbe diventare una certezza nella squadra di Pioli, fa bene a crederci. Mi sembra più una questione dell'anno prossimo, quindi quest'anno se devo essere sincero. Però, ripeto, questo non significa che non possa segnare già la partita da quest'anno. Insomma, ovviamente glielo auguriamo anche un po' per sbloccarsi in campionato. Noi ricordiamo, facciamo sempre tutti i dati e statistiche che sono relativi al campionato, non consideriamo le coppie, quindi né internazionali né nazionali. Questo era l'ultimo dato, io personalmente mi auguro che faccia più gol, però te l'ho detto, per ora ha fatto più bonus di Pogba e Locatelli, dai, per scherzare. Ma in realtà non solo... È un po' come Lukaku che aveva segnato più del Chelsea nel mese di febbraio. Dipende come vedi le cose, da che punto di vista le vedi. Scherzi a parte, siamo arrivati in chiusura di questa altra puntata del Calcio dai Numeri. È stato un piacere, Fabrizio. Piacere mio come sempre, Matteo. Ci ritroviamo giovedì prossimo e ovviamente grazie per averci seguito. A prestissimo. Ciao, un abbraccio a tutti.